Noi facciamo notare sempre cattedrale di Palermo, le abiti, scalcare niente, con ancora conservati gli strati. Quindi sono dei massi interi, tagliati interi, con gli strati, con i massi conservati. E se ne vuole per vedere uno strato conservato in un edificio, diciamo, è qua. Il resto è splendore. Sempre vedi, i cosiddetti sconci di topo, quelli sono balatoni, quelli di quelle due finestre, giusto? Questi sconcetti, quelli sono balati, sono balati, sono balati. Fine? Fine quinta barra quarta lezione di geologia alla cattedrale. Poi ci passiamo su alto.